Torna a farsi pesante il bilancio del covid a Prato con gli otto decessi segnalati dalla regione ai quali va aggiunto quello di Don Mauro Rabatti, parroco di Santa Lucia, morto stamani e non ancora conteggiato nel bollettino ufficiale. E anche i nuovi contagi, dopo qualche giorno di tregua, tornano a salire con 115 casi che rappresentano da soli il 15% del totale di quelli registrati in tutta la Toscana, oggi 744 su quasi 27.000 tamponi analizzati. Con le ultime vittime, il totale dei pratesi deceduti dopo aver contratto il covid sale a 526. Nel bollettino dell'Asle sono conteggiati due anziani deceduti nella propria casa, un 77enne di Poggiaccaiano e una donna di Prato di 95 anni. E' morto invece a Cariggi, dove era ricoverato un 75enne pratesi. Gli altri cinque decessi sono venuti al Santo Stefano, si tratta di una donna di 99 anni e di 4 uomini, rispettivamente di 79, 81, 87 e 88 anni. Stabile la situazione nelle strutture ospedaliere pratesi. Al Santo Stefano ci sono 129 pazienti covid in area medica e 14 in terapia intensiva, 42 posti occupati alla Melagrana, 23 alla Palazzina del Vecchio Ospedale e 49 al centro Pegaso.